Si aggiorna ancora il bilancio relativo all'emergenza coronavirus nella BAT. Gli ultimi dati sono forniti come sempre dal bollettino epidemiologico della Regione Puglia che segnala nella giornata di oggi, venerdì 18 settembre, altri 11 casi positivi accertati nella sesta provincia pugliese. Con i contagi odierni diventano 179 i casi di coronavirus registrati nella provincia di Barletta Andreatrani dallo scorso mese di agosto, da quando ha avuto inizio la seconda ondata epidemica. Sale invece a quota 551 il numero totale dei contagi registrati nella BAT dall'inizio dell'emergenza sanitaria.